Lo stile della vita cristiana è quello di Abramo, lo spogliamento, la promessa con il fidarsi di Dio e la tenda per continuare a camminare e la benedizione. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, nella quale ha commentato il brano del Libro della Genesi, inserito nella prima lettura con la chiamata di Abramo e la partenza verso la terra promessa. Un cristiano autentico ha spiegato deve avere la capacità di essere spogliato, di lasciarsi crocifiggere con Gesù, di obbedire e partire senza sapere dove andare, come Abramo. Senza andare dal negromante che gli legga la mano. Per ascesi? No, per andare verso una promessa, verso una terra. E qui Abramo non edifica una casa ma pianta una tenda e fa un altare per il Signore. Sempre in cammino perché il cristiano fermo non è vero cristiano. Il cammino incomincia tutti i giorni, al mattino. Il cammino di affidare verso il Signore. Il cammino aperto alle sorprese del Signore, tante volte non buone, tante volte brutte, pensiamo una malattia, una morte. Ma è aperto perché io so che tu mi porterai a un posto sicuro, a una terra che tu hai preparato per me. Cioè l'uomo in cammino, l'uomo che vive in una tenda, una tenda spirituale. L'anima nostra quando si sistema troppo, si installa troppo, perde questa dimensione di andare verso la promessa. E invece di camminare verso la promessa, porta la promessa e possiede la promessa. se questo non va, non è cristiano. Infine il cristiano benedice come Abramo, dice bene di Dio, dice bene degli altri e si fa benedire da Dio e dagli altri.